ragazzi bisognerebbe bisognerebbe fare una cosa è semplice non costa nulla iscriversi al canale dei chiesonerati ed attivare la campanellina sono vicino agli 8.000 gran bel traguardo vorrei arrivare a 10.000 non dipende solo da me dipende anche da voi quindi se vi piacciono i video quelle poche live che facciamo ma a breve faremo anche una bella live iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina che è tutto gratis era l'ora ragazzi perché qui non 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 se ne poteva più meno male torna il calcio la nazionale io visto solo un po la partita contro contro l'inghiterra prima di vedere cosa succederà anche in juventus milan e questa è una partita importante fondamentale anche per rimettersi in carreggiata tantissimi nazionali al giro per il mondo sanchez è tornato ieri sera tardi tanto per fare un esempio lautaro uguale è tornato stanco è tornato poche ore fa abbiamo due attaccanti soli giocheranno turame lautaro quindi ci sono le difficoltà il torino ha avuto una settimana di tempo per prepararla per dedicarsi a questa partita juri c'è un allenatore trattivamente molto ma molto bravo gli manca zapata davanti motivo per cui puoi giocare tranquillamente devrai perché devrai è un grande difensore eh ma ma sull'uomo non è non è quel centrale che sbrana l'uomo tipo come era scrignar come era samuel com'è lo stesso acerbi a trentasei anni perché acerbi sull'uomo bravo tra le spallate gioca tanto con il fisico quindi non giocando zapata puoi giocare tranquillamente devrai con uno spostamento eventuale da quello che stanno dicendo ora di acerbi al posto di bastoni perché ragazzi a bastoncino a bastoncino gli vogliamo bene tutti lo sappiamo lo abbiamo riusciuto noi bastoncino il problema è che ultimamente sta facendo delle prestazioni da matita rossa e per il bene della squadra eh bisogna tu ti metti a sedere bastoncino devi stare a sedere quanto pare oggi eh non ti fanno giocare io prendo mi riferimento il gol del Bologna il gol del Bologna del Ricciolone ragazzo che piace a me Zygze Zilche che io lo dissi occhio perché è bravo il ragazzo vent'anni olandese viene dal Bayern Monamo quello è un giocatore su cui io punterei per il futuro per esempio uno dei tanti il problema però per ora sono sempre questi non lo so dove i cinesi ragazzi è inutile continuate a chiedermi non lo so dove i cinesi vediamo se viene all'assemblea torniamo un po' indietro gol del Bologna bastoncino lascia la mancatura per fare densità nel mezzo ma eh lascia l'uomo solo di cosa vogliamo ragionare Zilche va a sinistra e tutti gli altri vanno a destra sono errori gravi ne preso due gol contro il Bologna quindi è una squadra che secondo me per come è costruita farà sempre alti e bassi ovvero sia durerà fatica questa squadra a giocare ogni tre giorni ragazzi parliamoci chiaro durerà fatica quindi mettendo a cebbi al posto di bastoni perdi un po' sulle sovrapposizioni però guadagni magari qualcosa in termini di marcatura però perdi in termini di sovrapposizioni e anche uscita palla quindi anche quando cambi i giocatori ci sono sempre i pro e i contro e ragazzi Juric è un allenatore che fa della fase difensiva come ho detto ieri e come sapete benissimo anche voi il suo punto di forza non è facile fargli gol e poi tra l'altro questi sono ragazzi che corrono fanno un pressing asfissiante e ripartono a bomba in contropiedi quindi gli manca buongiorno per esempio al Torino che a mio avviso è un grandissimo difensore questo ragazzo manca buongiorno manca Zapata quindi cioè per loro sono erano importanti questi due giocatori ma se ti dovessi diri dire come come colpire il Torino secondo me sono fondamentali gli esterni gli esterni saranno fondamentale lo stesso di Marco ha giocato le due ha giocato in nazionale sappiamo benissimo che di Marco ha un piede da fuori classe da da centrocampo in suo è fortissimo però ha tenuta la tenuta fisica di di Marco è quella che è sono i soliti 60 minuti quindi anche lui sarà stanco Danfris anche lui è stanco lo farei riposare infatti sembra che giovi di giovi darmi anni quindi le sovrapposizioni degli esterni sono importanti per non dare i punti di riferimento al Torino perché per come è organizzato difensivamente il Torino se gli dà i punti di riferimento vanno a nozze quindi occhio occhio non sarà semplicissimo e poi io ragazzi io sarò non lo so sarò un romanticone sarò uno che ne so che forse a volte guarda troppo al passato però secondo me in una squadra come l'Inter ci deve essere un numero 10 ci deve essere un Eriksen ci deve essere uno Snyder che soprattutto in partite difficili come potrebbe essere questa hanno il lampo di genio qui non c'è nessuno c'è lampi di genio ragazzi tranne Turan salta l'uomo in velocità e che tecnicamente è fortissimo un lautaro ma io parlo di numeri 10 di gente che vede spazi che gli altri non vedono tipo Snyder Eriksen ti fa due nomi cioè serve all'Inter un giocatore così per quello io a volte con questo 3 5 2 mi rompo i voglioni perché questo schema non prevede un giocatore con quelle caratteristiche con quella fantasia perché spesso a questa squadra secondo me manca fantasia perché se non alza il livello di corsa l'Inter alza il livello di corsa e si alza il livello di gioco abbassa il livello di corsa si abbassa il livello di gioco ma non sempre puoi andare a mille questo l'abbiamo detto tante volte e quando non puoi andare a mille serve gente che ha personalità e che ha piedi d'oro capito che ha colpi da genio l'Inter non ce l'ha questi giocatori vecchio numero 10 e secondo me nell'Inter ci deve essere un numero 10 io spero che alla fine torni c'è il mio compaesano Baldanzi attenzione a Baldanzi sembra che l'Inter ci sia dietro veramente eh e in maniera importante attenzione a Baldanzi perché il mio compaesano è fortissimo occhio a Baldanzi se l'Inter prende Baldanzi io stappo una bottiglia ti ricevo le stesse cose prendiamo Turam per ora mi sembra di averne indovinate tante ti dico occhio perché Baldanzi è un potenziale fuori classe quei giocatori lì ci servono anche e noi purtroppo non ce l'abbiamo comunque l'importante è che oggi torna l'Inter torna il calcio bisogna vincere cioè non c'è altra soluzione questa è una partita che va vinta una partita molto difficile poi sono tutti in difficoltà le grandi squadre con tutti i nazionali sono andati al giro noi abbiamo già noi la punta il primo cambio davanti è tornato ieri sera a mezzanotte quasi cosa vuoi ragionare dove vuoi andare lì cinese siamo sempre lì capisci ma cosa rifinanzia con cosa rifinanzia con i punti fragola dell'esse lunga rifinanzia dove sono le garanzie per rifinanziare ma con nulla tenente cosa può rifinanziare ma perché non glielo chiedete questo ciao Inter